Anche quest'anno la nostra dirigente, la dottoressa Bernardina Ginevra, ci ha dato l'opportunità di partecipare ad una grande iniziativa che è quella di Rigiochiamo. Così come dice il termine stesso, diamo la possibilità nuovamente ai giochi di riprendere vita, di avere nuova vita nelle mani di altri bambini. È un'iniziativa a cui i bambini della nostra scuola hanno partecipato con grande entusiasmo. Rigiochiamo parte con il Festival della Sostenibilità e prosegue tuttora, grazie alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. I bambini possono partecipare attivamente a quella che è la salvaguardia del nostro pianeta. Così come dice lo stesso termine dell'iniziativa Rigiochiamo, i giochi dismessi dopo un opportuno controllo e quindi verifica di buone condizioni degli stessi, vengono nuovamente ridonati ad altri bambini e poter dare nuova vita a questi giochi. Il concetto chiave è quello proprio del riuso e del riutilizzo di quelli che sono giochi dismessi. Ovviamente tutto questo è stato fatto per permettere ai bambini stessi di comprendere termini quali la condivisione e lo scambio. Tutto il raccolto verrà devolto alla fine, verrà dato alle associazioni, principalmente all'associazione Etnos, così come ad altre associazioni benevole.